non ho capito non ho capito scusami per me è un buonissimo giocatore che rientra appieno in quello che oggi siamo in Italia quindi una seconda fascia se vado a pensare a Turam se lo vado a mettere nelle prime quattro squadre o le prime cinque squadre d'Inghilterra non giocherebbe mai in Italia gioca questa è tutta la differenza nonostante che l'ho avuto un buon giocatore l'ho avuto un buon giocatore